Questo praticamente è la visione con le luci, come luce a letta. Una visione chiara e nitida, al contrario delle lampade incandescenza che sono giallognole e in caso di pioggia assorbono anche molta luce da parte delle lampade incandescenza perché mettono una luce più giallogno. Probabilmente col bianco impatta di meno il nero della strada quindi è più evidente la visione. L'abbiamo già provato e pare che vedete la traccia in fuoco a terra delle mie luci con quelle che vengono di fronte, alcune sono proprio gialle, ovviamente è normale per delle lampade incandescenza anche lampade alogene, cosiddette alogene, sono abbastanza gialle. Per la sicurezza è meglio mettere delle luci a led, perché io penso che dovrebbe essere obbligatorio, come vedete è ben delineata il bordo della strada, si vede abbastanza bene. Praticamente l'unico difetto è che avendo i due led per parte e sopra e sotto non c'è diciamo la fonte di luce, praticamente viene fuori una proiezione a farfalla non so se avete presente, come due triangoli uniti al centro perché ecco vedete qua siamo fermi al semaforo comunque